La stampa digitale ha aperto dei nuovi mercati. Usandola bene si possono aprire degli altri sbocchi, ho fatto l'esempio dei grandi cartelloni pubblicitari, dei rivestimenti dei palazzi in costruzione, con delle stampe gigantesche, piuttosto che la stampa del fular di setta. Lei sa che i fular di setta di Hermès e di Gucci non sono più stampati in serigrafia, ma sono stampati in digitale. L'offset sarà il dominante del printing processo per i prossimi 20 anni. La stampa digitale potrebbe essere più importante, perché non potete analizzare o pensare che la stampa digitale è aumentata e migliorare. è meglio e l'offset stanno stile. Non è il caso. Molte persone investono in l'offset. Quindi... E tu vedi anche prodotti che sono combinato. La parte è digitale printata e l'offset. Quindi... Io vedo una molto lunga co-existenza tra i processi di printata. Il problema è importante che sia digitale printata. Ci sono diversi tipi di printata. E l'altra parte ha una precedenza. L'altra parte c'è l'altro. C'è quello che vuole risultato... C'è un progetto che è un progetto... di VIKTOR Magazzin di Haselblatt. Ci sono già stati di combinazione... tra un progetto digitale progetto e un progetto digitale progetto e un progetto digitale progetto. A volte viene da un progetto diverso, ma sicuramente, ci sono ancora più possibili di digitale progetto digitale progetto, che non abbiamo ancora mai visto. Inksheto è chiaramente il progetto digitale progetto. Non significa che il progetto digitale progetto digitale progetto. Ma vediamo che questi produttori targeti il mercato del mercato. Perché quando si analizzate il mercato oggi, potete vedere alcune applicazioni per il digitale progetto, per il transpromo mercato, per direttore mail, per commerciale progetto, per il libro che non c'è ancora una reale soluzione per il mercato. In questo caso è davvero il progetto digitale progetto digitale progetto digitale progetto, come personalizzazione, spiegelare, 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 spiegelare. Ci sono anche un progetto digitale 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 proget che vogliono in questa situazione in questo mondo, devono accepterare e, almeno, anche anche loro in questa situazione.